E questa sera ci sarà un grande ospite, Luca Bergamini qua con noi che ci farà ballare. Certo, buonasera, ciao, grazie per questa presentazione, il grande ospite. Sono veramente felice di essere qua in mezzo a tutte donne, era ora dai. Sì, vi porterò la mia musica, le mie canzoni e speriamo di passare insieme veramente una bella serata. Ma tra tutti i successi ce n'è qualcuno che ci farà sentire questa sera? Beh, questa sera sì, voglio te, io ci sarò, occhi di ghiaccio, qualcosina, di questo lo faremo molto volentieri. E allora grazie Luca per essere stati con noi, è stato con noi e non vediamo l'ora di ballare. Grazie a te e bacio perché oggi bisogna baciare tutte le donne. Grazie.